E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida Questo è VRC3 E' amici di YouTube, amici di Fruit Lab, siamo tornati con VRC3, siamo al World Rally Championship, siamo esattamente al ventiquattresimo capitolo, contro Peter Larsson nell'area scandinava. Affronteremo la neve, le piste ghiacciate di rally in Danimarca e in Scandinavia, quello lì in Norvegia, Scandinavia, vediamo un po' quello che è. E niente, allora la prossima sarà proprio questa Rally di Svezia E niente, difficoltà 4 Vediamo un po' come vanno queste gare, così sconfiggiamo anche questo e continuiamo ad andare avanti con la carriera qui in Road Glory con VRC3 Buona visione amici, ci sentiamo per i saluti, commenti finali, ciao a dopo! E' un po' come vittimale, comunque è un po' come vittimale, ci sentiamo per i saluti, non è un po' come vittimale, quindi è un po' come vittimale. Sinistra 4, attenzione, su d'osso, molto lunga La siamo a vista brutta Destra 6, in sinistra 4 e destra 4, stringe, in sinistra 4, non tagliare Poi destra 3, il cicantinistra Sessanta, destra 4 e sinistra 5, attenzione, salto, in destra 4 In destra 4, in trezzoia, molto lunga Sessanta, in sinistra 3, stai al centro, molto lunga Su d'osso E salto Poi salto, attenzione Salto Ehi, stai a centro Finistra 4, molto lunga Sessanta, destra 4, lunga Sinistra 5, attenzione, sinistra all'incrocio, non tagliare, molto stretto Poi sinistra 6 e destra 3, dopo i difficili, chiude In sinistra 4, si stringe Soppa, poi destra 6 e sinistra 5, in scicant destra Destra 4, in sinistra 4 40, sinistra 3, diventa destra 4 Poi sinistra 3, poi sinistra 3, lunga Destra 4 e 60 Sinistra 4 40, sud 8, poi destra 6 e sinistra 6 Destra 3, lunga In sinistra 3, in scicant destra In destra 3, poi sinistra 3 40, destra 4, diventa sinistra 5 100 Attenzione, stai a sinistra Salto In destra 6 e destra 4 Scivoloso, poi sinistra 4 e destra 5 Traguardo Retreat Attenzione, stai a sinistra 6 Attenzione, stai a sinistra 5 lovakist Extraser 넣 Grazie a tutti. 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 Via. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video.